il maggiordomo recò un enorme vassoio con delle pere molto grandi luigi inaudi guardò un po' sorpreso poi sospirò io disse prenderei una pera ma sono troppo grandi c'è qualcuno che vuole dividerne una con me tutti avvertimmo un attimo di sgomento e guardammo istintivamente il maggiordomo era diventato rosso fiamma tuttavia lo batte in volata io presidente il presidente tagliò la pera il maggiordomo ne mise la metà su un piatto e me la posò davanti come se contenesse la metà della testa di giovanni battista